Bella ragraz! Vediamo 10 curiosità sul carbone attivo. Primo, cos'è? È una polvere fine, nera e dalla grande aria superficiale, che si ottiene dalla carbonizzazione di legni leggeri, quali gusci di noce di cocco, betulla e pioppo, e che subisce poi un secondo processo, detto attivazione, che ha lo scopo di creare sulla sua superficie innumerevoli microscopi cippori, che gli conferiscono un forte potere adsorbente. L'adsorbimento è un fenomeno fisico di fissazione delle molecole su una superficie che ha come effetto finale quello di modificarle chimicamente, a differenza quindi dell'assorbimento che non modifica le molecole ma semplicemente le sottrae. Quindi, detto più semplicemente, il carbone attivo è una fine polvere nera che lega le molecole e le modifica. Seconda curiosità, per cosa è utilizzato? Il suo potere adsorbente gli fa avere un uso molteplice che spazia dai prodotti per la salute, alle maschere anti-gas, al suo uso come decolorante nell'industria, nonché al suo uso nei filtri per l'aria e l'acqua. Tre. Quali sono le indicazioni sulla salute consentite? Viene riportato un solo claim ufficiale, ossia il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell'eccessiva flatulenza post-prandiale. Da cosa deriva questa indicazione sulla salute? Deriva dall'evidenza scientifica che questo prodotto riduce l'accumulo di gas intestinali. Piccola curiosità, per generare un accumulo di gas intestinali nei soggetti sottoposti a studi di causa-effetto tra, appunto, l'utilizzo del carbone attivo e l'eccessivo accumulo di gas intestinali, sono stati somministrati pasti a base di fagioli, diciamo consistenti dosi di fagioli. Questa indicazione sulla salute è sempre valida? La risposta è no. Può essere impiegata solo per un prodotto che contiene un grammo di carbone attivo per porzione quantificata. Inoltre, l'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico, ossia il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell'eccessiva flatulenza post-prandiale, si ottiene solo con l'assunzione di un grammo almeno 30 minuti prima del pasto e un grammo subito dopo il pasto. Sono stati proposti altri claims? Sì, sono stati proposti altri claims che sono presenti nel registro europeo dei claims su nutrizione e salute e fanno soprattutto riferimento al suo uso tradizionale che lo vede protagonista nei processi di buona digestione, ma ad oggi non sono stati ufficializzati per insufficienti evidenze scientifiche. Settima curiosità. Qual è il suo meccanismo d'azione? Il carbone attivo non agisce direttamente sull'organismo, rimane nel tubo digerente, da cui è perfettamente tollerato, dove absorbe tutte le sostanze indesiderabili nell'intestino. Il suo potere adsorbente è soprattutto marcato nei confronti di gas, di sostanze tossiche a struttura aromatica, veleni organici e batteri, mentre la maggior parte dei veleni inorganici e delle sostanze non aromatiche non vengono adsorbiti efficacemente. Leggenda vuole che, per dimostrare il suo potere adsorbente, un farmacista francese ingerì un'importante quantità di stricnina avvolta dal carbone attivo e non ebbe problemi di salute. Ovviamente tutta la quantità di carbone attivo viene poi escreta con le feci che assumono una colorazione nera, quindi non bisogna preoccuparsi se con l'utilizzo di carbone attivo alle dosi indicate nelle condizioni d'uso si producono feci nere. Quali sono i suoi usi tradizionali? Oltre che per meteorismo e gonfiore, è tradizionalmente utilizzato anche per dolori addominali, quali crampi e bruciori, erutazioni, alito cattivo dovuto ad eccessiva fermentazione intestinale e diarrea, grazie proprio alla sua capacità di immagazzinare acqua, sottraendola quindi dall'umo intestinale. 9. Può avere effetti collaterali? Allora, non si riportano effetti collaterali, ma è consigliabile l'utilizzo a distanza da farmaci o altri integratori, proprio per il suo potere adsorbente. Alcune fonti riportano come tempistica due ore, e poi chiaramente non è consigliabile nei soggetti che presentano delle alterazioni del tratto gastrointestinale. 10. Ultima curiosità. Può essere utile nell'ipercolesterolemia? Sembrerebbe attivo nel ridurre i livelli plasmatici di colesterolo, con un meccanismo, a dire la verità, poco chiaro. Potrebbe derivare dalla sua interferenza nella circolazione enteroepatica degli acidi biliari, ma gli studi riportano dei dosaggi veramente alti. Stiamo parlando di 5-8 grammi 2-3 volte al giorno. Dosi che per esperienza sicuramente non trovano la compliance del paziente, e fanno propendere per altri integratori utili nell'ipercolesterolemia. Va bene ragraz, per il carbone attivo questo è tutto. Ci vediamo con le prossime fitness tips.